Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Nicole e il mio blog si chiama Colcavolo. Se siete arrivati qui probabilmente vi interessano le cose da mangiare, quindi vi accontento subito. Oggi infatti prepareremo una ricetta velocissima, super facile per avere torte sempre perfette, esattamente come quando le infornate perché quante volte vi è capitato di fare magari una torta con una decorazione bellissima ma che una volta uscita dal forno era una massa in forme magari anche un po' bruttina. Ecco, con questa base per torte prometto solennemente che non succederà mai, anzi la base viene cotta o in bianco quindi senza farcitura per poi essere farcita successivamente oppure può essere cotta già con la farcitura. Ad esempio se fate una crostata classicissima con una confettura di frutta, vi prometto che la base si cuocerà alla perfezione in ogni caso e poi serviranno solo 3 ingredienti. Ma bando alle ciance iniziamo subito. Per preparare la base della nostra torta ci serviranno 200 g di farina bianca, un pizzico di sale, 100 g di burro freddo e circa 5-6 cucchiai di acqua. Versiamo innanzitutto il sale nella nostra farina, quindi uniamo il burro tagliato a tocchetti con un coltello, tagliamolo bene bene per poi utilizzare una forchetta e schiacciarlo fino a formare un composto piuttosto sabbioso. Aggiungiamo un cucchiaio di acqua alla volta per uniformare bene il nostro impasto, ne aggiungiamo 3 e cominciamo a mescolare. Al bisogno ne aggiungiamo altri 2 e continuiamo a mescolare con la nostra forchetta. Quindi trasferiamo l'impasto sul tavolo e lo lavoriamo molto velocemente con le mani perché non deve essere troppo lavorato. Trasferiamo il nostro impasto su un foglio di carta da forno. Se necessario spolverizziamo il nostro mattarello con un velo di farina e stendiamo la base della nostra torta a uno spessore di circa 3-4 mm. Prepariamo la nostra tortiera, versiamo all'interno la nostra sfoglia e cerchiamo di uniformarla bene staccandola delicatamente dalla carta da forno. Con un coltello molto affilato tagliamo la pasta in eccesso e adesso, se vogliamo, siamo pronti per decorarla perché terrà la forma anche in cottura. E ho utilizzato questo metodo formando delle piccole cappette molto molto semplici che si sono mantenute benissimo anche dopo la cottura. Con l'impasto avanzato ho fatto due mini crostatine con la confettura, quindi le ho messe in forno così come erano. Con le dosi che ho utilizzato potrete fare senza problemi una torta da circa 26 cm solo per la base oppure da circa 22 cm e utilizzare il resto dell'impasto per fare le decorazioni. Non so, magari per la crostata come dicevamo all'inizio o se volete fare una torta con della crema e mettere già delle decorazioni di pasta. Potete farlo oppure se volete cuocere a parte le decorazioni e poi utilizzarle a freddo. Se volete fare invece ad esempio un apple pie tipica americana, quindi vi servirà il guscio sotto e anche il guscio sopra per poi finire la torta, vi consiglio di raddoppiare le dosi in modo da farle una volta per tutte e averle pronte all'uso. Se invece volete prepararlo in abbondanza non preoccupatevi perché potrete semplicemente congelare l'impasto appena fatto in un foglio di pellicola trasparente e tenerlo in freezer per circa 6 mesi. Mi raccomando quando volete scongelarlo tiratelo fuori dal freezer almeno un paio d'ore prima. Meglio ancora se volete preparare magari la torta nel pomeriggio spostate l'impasto in frigorifero la mattina. Allo stesso modo se volete preparare la mattina successiva la torta, la sera ricordatevi di spostare dal freezer al frigorifero l'impasto così si potrà scongelare in modo uniforme. Detto ciò però io vi ho dato la base ma vorrei anche sapere come la utilizzerete. Quindi lasciatemi un commento qui sotto dove mi dite come l'avete utilizzata, se avete fatto fatica a prepararla anche se penso che non sia questo il caso visto che è la cosa più semplice del mondo e veramente a prova di incapace. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale così vi arriverà magari attivando la campanella una notifica direttamente sul vostro smartphone che vi dirà Ehi ciao Nicola ha fatto un nuovo video. E noi ci vediamo al prossimo, come sempre grazie per essere qui e fatemi sapere anche sui social, magari taggandomi, se avete preparato qualcosa di buono, se volete qualche suggerimento, qualche nuovo video o se vi piacerebbe che io approfondissi qualcosa in particolare. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione e noi ci vediamo alla prossima! Ciao!